Assessore, la forza evocativa delle nostre tradizioni esplode prorompente per questo clima di Natale. In un momento storico in cui quasi ci si spaventa a ricordare le nostre tradizioni, noi invece lo ricordiamo con forza. Sì, assolutamente. Le nostre tradizioni sono quelle che ci danno la forza per guardare avanti. Non possiamo, rispetto alle polemiche che ci sono sull'argomento, non possiamo transiggere su questo aspetto. Noi veniamo da lì e da dove veniamo dobbiamo salvaguardarlo e rafforzarlo. Anche lo stesso titolo vuole essere un rafforzativo di questo elemento. Quando Dio nasci io, è quello che noi abbiamo voluto e vogliamo proporre. Nella nostra tradizione storica c'è proprio tantissimo legato al Natale, dalla nanna redda alle filastrocche, all'allestimento del presepe. Ringrazio quanti stanno partecipando a questa organizzazione perché rendendosi conto delle difficoltà che noi abbiamo anche nell'attingere a contributi, a finanziamenti, c'è un restringimento delle attese veramente ingommiabile. Io li ringrazio fin da ora. Tutti coloro che hanno voluto partecipare, stanno partecipando, lo fanno veramente con lo spirito e il desiderio di fare qualcosa per la città. La cosa interessante di questo calendario è che sarà coinvolta tutta la città, non solo il centro storico ma anche i quartieri cosiddetti di periferia o decentrati. Esatto, sì, ci saranno mostre di presepi sparsi in città e a cominciare partendo geograficamente dai granai ducali. Poi in San D'Agostino ci sarà una mostra di presepi viventi, ci sarà una mostra di presepi nella chiesa di San Rocco e ci sarà una mostra di presepi fatte dai ragazzi delle scuole alla chiesa di San Biagio. Nella stessa chiesa di San Biagio, prima di questa manifestazione di presepi, ce ne sarà un'altra che invece riguarderà la mostra di artigianato femminile. Novità assoluta a Gela, arriva la pista sul ghiaccio, ci può spiegare questa pista dove sarà collocata e chi potrà accedere? La pista sarà collocata nel quartiere Cantine Sociali, quindi organizzata dal gruppo Cantine Sociali, quindi con la parocchia anche della zona stessa. La pista è la prima volta che noi veniamo anche a Gela, quindi nelle zone del gelese o comunque della Sicilia. La pista sarà una misura di 15 per 15, quindi sarà una pista di 225 metri quadri circa. All'interno della pista potranno accedere sia adulti, sia bambini o famiglia o quant'altro. All'interno della pista potranno accedere l'interno della pista potranno accedere l'interno della pista potranno. Grazie a tutti.